Dio sceglie coloro che sono piccoli, così ha detto il Papa nell'Omelia. La fedeltà cristiana, la nostra fedeltà, è semplicemente custodire la nostra piccolezza, perché possa dialogare col Signore. Custodire la nostra piccolezza. E per questo la umiltà, l'amitezza, la mansuetudine, è tanto importante nella vita del cristiano, perché è una custodia della piccolezza la quale piace guardare il Signore. E sarà sempre il dialogo tra la nostra piccolezza e la grandezza del Signore. Ci dia il Signore, per intercessione di San Davide, anche per intercessione della Madonna, che cantava gioiosa a Dio perché aveva guardato la sua umiltà, ci dia il Signore la grazia di custodire la nostra piccolezza davanti di Lui. Così si è.